Cari amici di Salento Informa, vi saluto e ringrazio l'amico Alfredo Monte che mi ha richiesto un pensiero molto veloce chiaramente riguardo il periodo che stiamo vivendo, non voglio aggiungere quello che probabilmente già avrete avuto modo di ascoltare da più parti, il momento è particolarmente difficile, vediamo un certo attenuarsi del fenomeno legato all'emergenza sanitaria, sembrerebbe che qualche spiraglio di luce si intravede alla fine di questo tunnel, ma rimane comunque altissima la criticità in termini economici, questo governo ha realizzato delle misure assolutamente inadeguate, insufficienti e molto spesso anche frutto di vera e propria propaganda lontanissima dalle reali esigenze di tutte le varie categorie e mi rifaccio in particolar modo alla categoria dei produttori, perché quando il Premier Comter ci parlava di questa potenza di fuoco immaginavamo sicuramente qualcos'altra, non un'ipotesi di prestiti da parte delle banche, che sicuramente sarà difficile ottenere per una serie di caviti burocratici che abbiamo scoperto poi leggendo con attenzione questo decreto famoso e anche perché le imprese non hanno bisogno di nuovi prestiti e di un nuovo indebitamento, avrebbero bisogno invece di risorse fresche a fondo perduto, quindi ci troveremo con 2, 3, 4 mesi di inattività, perché il tempo di ripartire, qualora si dovesse ripartire, sarà particolarmente difficile riuscire a mettere in equilibrio il bilancio e quindi ci troveremo tutti in grossissime difficoltà se non dovessero, come ci auguriamo, mettere in campo delle misure di reale sostegno al mondo del settore produttivo, delle imprese, delle partite IVA, un po' come è successo in molti altri Stati, qui da noi purtroppo non c'è nessun sussidio reale e tutto il comparto economico produttivo del Paese è in grossissime difficoltà. Mi è stato chiesto da parte di Alfredo anche una valutazione su questa nostra iniziativa che stiamo portando avanti, quella di solidarietà con cuore amico, un grande cuore amico del Salento, l'abbiamo chiamata così, stiamo un po' cercando di andare incontro ai vari bisogni che stiamo ritrovando. Ci sono famiglie che non rientrano nel novero della povertà cristallizzata, ormai che segue alcuni canali che sono quelli della Chiesa, della Caritas, del Banco Alimentare ed altro, ma c'è tutta una nuova stratificazione sociale di famiglie che purtroppo non ce la fanno ad andare avanti e noi con impegno stiamo cercando di andare incontro alle esigenze un po' di tutto il territorio. Siamo in tour in questi giorni, stiamo attraversando lungo e largo il nostro bel Salento, abbiamo già distribuito più di 5.000 pacchi alimentari e faremo altrettanto fino a quando non ci sarà bisogno di noi. Questa emergenza ci auguriamo che finisca quanto prima, ma fino ad allora abbiamo convertito la nostra mission che molti conoscono da anni, perché sono 20 anni che esiste cuore amico, che era quella di aiutare i bambini disabili e le loro famiglie con contributi economici per delle cure particolarmente impegnative e costose o per l'acquisto di automobili attrezzate per i nostri bambini, perché i bambini e i ragazzi sono all'età di 18 anni. Abbiamo convertito un po' momentaneamente e estemporaneamente la nostra mission andando incontro ai bisogni delle famiglie, intervenendo grazie anche alle parrocchie, alle associazioni, ai comuni, ai servizi sociali, insomma tutti quelli che oggi stanno incrociando storie difficili, complicate di chi ha difficoltà anche a fare la spesa e mettere un piatto caldo a tavola per le proprie famiglie. Quindi continueremo e andremo avanti per quello che sarà possibile. Riguardo l'altra riflessione che mi ha chiesto l'amico Alfredo, riguardo il nostro settore della comunicazione, noi viviamo essenzialmente di pubblicità ed è chiaro che noi siamo i primi a soffrire quando c'è una crisi, una crisi che era già sistemica da molti anni, ma che si è acuita, si è accentuata a causa di questo momento drammatico che vive l'intero comparto economico del paese, in particolar modo del sud e del sud del sud come siamo noi qui nel Salento. Quindi la prima cosa che di solito le imprese tagliano, in questo caso non avendo risorse, non avendo entrate, perché si è fermi con l'attività ormai da due mesi, è la pubblicità, la comunicazione, che cosa devi pubblicizzare se giustamente le attività sono ferme, quindi è chiaro che anche noi stiamo vivendo un momento molto difficile. Ci auguriamo che si possa riprendere quanto prima e ci possa essere un rilancio dell'intera economia e conseguentemente anche del nostro settore. Un dato però dobbiamo registrarlo, che gli ascolti si sono triplicati, perché gli amici, le persone, i telespettatori sono tutti a casa e quindi in particolar modo Telerama ha avuto un balzo in avanti nell'auditel di marzo, veramente significativo, almeno insomma qualche maniera, qualche dato positivo da inguaribile ottimista come io sono, lo possiamo comunque ricercare in questo nuovo dato del rilevamento d'ascolto. A parte questo, per adesso è veramente tutto molto difficile e complicato, ma speriamo, affrontando sempre questo periodo con coraggio, con pazienza, ci vuole molta pazienza.